Ciao ragazzi, mi chiamo Alexander De Pisa e se siete dei nuovi videomaker e non avete mai ripreso un matrimonio, ho fatto questo corso per voi. Oppure se avete già esperienza e volete un punto di vista diverso, beh, ho fatto questo corso anche per voi. Partiamo dal titolo, BTS, dietro le quinte. Non vi prenderò per mano, non vi dirò esattamente cosa fare, ma vi spiegherò il perché delle mie azioni in determinate situazioni. Non vi dirò i segreti del video perfetto perché non esistono, posso solo mostrarvi l'adattamento, l'improvvisazione del mio stile in ogni situazione. Partiremo dal giorno prima, in studio vedremo l'importanza di una checklist, i preparativi sposi, la festa e tutte quelle fasi che compongono un tipico matrimonio. Vi mostrerò il mio approccio all'evento, come mi relaziono col prossimo e come faccio a stressarmi il meno possibile che è una cosa non da poco. L'episodio zero è online e da lì potrai vedere alcune scene tratte dai vari episodi, se pensi che questo possa fare il caso tuo, spero che allora ti unirai a noi.